Ok, oggi vi spiego che cos'è il Legends Academy Questa è la pagina dove se entrate vi spiegherà tutto quello che ci sarà all'interno Un supporto online, il Legends Team in tutta Italia se volete anche praticare in modo reale dentro una palestra E poi tutto quello che darà a disposizione il Legends Academy Quindi il Fighting, il Training e la Motivazione Iscriviti, sceglierai il tuo piano che per te ti appartiene di più C'è il Petroriano, che è un semestrale, ne avrete tutto Legionario, che è quello che conviene più di tutti perché è l'annuale ma avrete tantissime possibilità di accesso Compreso il gruppo esclusivo Facebook, i backstage e i video dei miei amici dell'America Top Team o atleti del mondo E il mensile che è il centurione Una volta che voi avete scelto il vostro pacchetto Vi arriverà l'email e andrete sull'account, accedi Vai su accedi Ora vi faccio vedere quello che troverete all'interno Sicuramente io ho il mio username Entrerò dentro E questo è quello che avrete dentro l'Accademia Dal telefono posso scegliere Training, Fighting o Mentality Mettiamo ad esempio Fighting Se siete degli allenatori o dei atleti che volete allenarvi Scegliete il corso Ci sono vari corsi, c'è il corso di MMA Il corso di Kick Il corso di Box E di Grappling Ne verranno anche altri Ogni mese cercherò Ogni due mesi cercherò di mettere un corso nuovo E ogni mese ci saranno tecniche nuove Dentro i corsi specifici Di MMA, Thai, Box Box e così via Ora entriamo dentro il corso di MMA Una volta entrato dentro il corso di MMA Ci sono le varie sezioni La parte dello Striking La lotta in piedi E la lotta a terra per la MMA Accedi a uno di questi Come vedi è molto semplice E anche qui decidi te quello che vuoi fare Se vuoi allenarti sui spostamenti La guardi spostamenti Colpi di braccia Colpi di gambe O le combinazioni braccia e gambe Basta solamente cliccare E ti si aprono i video Quindi alla fine c'è la lista dei video Dove io spiegherò la tecnica In modo semplice Come vedi Lo mando avanti Ci sarà io che spiego la tecnica E io ti faccio vedere l'esecuzione I video durano a tutti Sono dei corpi molto importanti Perché vanno a fiancare Dove tu ti puoi esercitare E capire com'è la tecnica E poi c'è una parte Molto molto efficace Che è quella dei protocolli Ah stessa cosa nel training Dinamica del training Andiamo a vedere anche il training Questo era il fighting Nel training vedete ci sono vari corsi Corsi primitive Cat, bell, claps Flying Metteremo altri corsi Col bilanciere Corpo libero E molto altro E quando voi scegliete un corso Entrate dentro Della stessa dinamica Dei corsi dei fighting Avrete dei video Mettiamo quello avanzato E vedremo I video L'esecuzione delle tecniche Anche all'interno Del training E poi come dicevo Ci sono i protocolli Per tutti quelli che faranno Il petroriano Il legionario Avranno i protocolli Fighting Training E free Free logicamente li vedono tutti Se mettiamo fighting Vediamo un protocollo di fighting Lotta a terra Ground and pound Box Questo è quello di box Ci sarà la spiegazione Come vedi nel protocollo di box Con tanto di scheda Quindi ci sarà In base al tuo livello C'è la scheda L'esercizio I round Il tempo Il recupero E le note Di come possono essere usati Sia il lavoro I round Le ripetute 15 secondi 15 secondi E il periodo Che devi fare Questa scheda Torniamo indietro Stessa dinamica Succede per il training Quindi protocolli di training Questa è una cosa che ho fatto Anche per chi è ora Si trova in vacanza E vuole allenarsi all'aperto Altrimenti c'è un circuito Con i barbies Che è molto efficace Come vedete Qui ci sono le tabelle E ti dicono Quanto tempo Lo devi fare Per quanto tempo I set Le ripetizioni Recupero E le note Se devo dire qualcosa E spiegare qualcosa Ricordo che non sarò solo io Il docente Ci saranno anche altri Campioni Che una volta al mese Metterò i loro video E anche altri preparatori Atletici E Del settore Vi aspetto nell'accademia Sempre per arrivare pronti In ogni team E migliorare Ogni volta che uno vuole Imparare sempre di più Dagli